Oggi è il 19 novembre. 1985, Ginevra. Primo incontro Regan-Gorpaccio. 1917, nasce Indira Gandhi. 1969, manifestazione a Milano. Un agente è la prima vittima degli anni di piombo. Commenta il fatto del giorno Don Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi ricordiamo la morte di un celebre compositore, Franz Schubert, a soli 31 anni. Grazie. Grazie.